Ciao ragazzi e ciao ragazzi eccomi qua ritornata I am back con un nuovo video come al solito se l'avete visto dal titolo sono tornata con un video shopping sugli acquisti che ho fatto a Sorrento durante il mio weekend di due settimane fa ormai quasi che ho fatto con il mio futuro marito appunto per festeggiare la promessa in realtà era un weekend che io dovevo fare ad aprile con il bonus vacanze però purtroppo abbiamo dovuto rimandare perché in quel periodo la campagna era zona russa quindi vabbè a questo punto poi rimandai questo punto lo chiamai all'albergo guarda c'è stato questo giorno di qua disponibile così abbiamo festeggiato la promessa e mio padre con la moglie perché sono andata con lui loro hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio il 13 giugno vabbè comunque sono stata lì e chi mi conosce lo sa io dove vado vado acquisto e Sorrento fai un giro fantastico per il corso e compri perché ha sempre delle cose deliziose e quindi niente adesso ve le mostro già avete visto sicuramente in due video fa avete visto appunto ho fatto un piccolo vlog con delle foto del weekend e poi invece nell'ultimo video avete visto cosa vi è successo qua per chi se lo fosse perso vabbè ho preso un'infezione alla cornea perché non si è capito se è una cosa se è un virus o perché io sono immunodepressa avendo avuto quello che ho avuto sono comunque un soggetto a rischio e non si capisce infatti già ho fatto sei giorni di antibiotico oftalmico adesso devo fare una settimana di antivirale per bocca e antivirale per l'occhio sperando che poi sia finita vabbè però comunque la vita va avanti anzi ormai solo che mi ne raffagno mi sto anche abituando a stare senza occhio vabbè comunque la vita va avanti il canale deve andare avanti io voglio farlo andare avanti e quindi sto qui a girare questo video infatti penso se avrà tempo ne girerò anche qualcun altro dopo o in questi giorni comunque e niente quindi partiamo nel farvi vedere questi acquisti allora in primis vi mostro questo costume bellissimo che ho comprato appunto proprio sul corso di Sorrento che è questo costume verde acqua con questi fili oro il fiocco non è bikini è bretella e dietro si attacca con un nudo allora la taglia dovrebbe essere una 46 ma vi posso assicurare che non è una 46 perché di vita mi va un poco grande se era XL mi andava enorme perché io sono una 42 infatti questo è lo slip mi va leggermente grande ma non è che mi scappa da dosso quindi assolutamente non può essere una XL e il seno magari sì perché comunque io ho un seno abbondante però comunque non è 46 questo assolutamente no e questo l'ho pagato 15 euro poi nel negozietto proprio a fianco parlando con la moglie di mio padre perché infatti sarebbe comprata pure lei abbiamo preso tutte e due questa borsetta con scritto Sorrento in righe fucsia bellina perché lei ha detto io l'ho comprata perché a volte quando andiamo al mare ci abbiamo il borsolo del mare grande e magari non sappiamo dove mettere il portafoglio il cellulare, i fazzoletti infatti l'ho comprata anche io subito perché in realtà è comodissima da portare sia oltre alla borsa mare oppure metterla all'interno con appunto io già l'ho usata il giorno dopo andammo al mare ci ho messo dentro il portafoglio mio il portafoglio di Angelo il cellulare mio, il cellulare di Angelo i tovaglioli le salviette infettanti è comodissima, stracomoda carinissima poi e pagata solamente 5 euro poi quando vado a Sorrento io assolutamente devo andare da Antica Sartoria Antica Sartoria è un negozio appunto che fa tutte cose sartoriali in Campania c'è dappertutto però vi posso dire anche che io l'ho visto a Messina una volta e comunque c'è da qualche parte in Italia che fa tutte queste cose appunto sartoriali ma bellissime e ho preso due cose allora ho preso in primis questi orecchini che sono bellissimi aspettate che ve li faccio vedere questi orecchini che hanno questa pallina in feltro poi hanno tutti questi queste perline così e bianche e poi alla fine finiscono con varie conchiglie bellissimi deliziosi magari ve li faccio vedere indossati aspettate aspettate non so se ci riesco ecco qua vado quanto è bello questi pagati 6 euro me li metto dai me li metto per fare il video pagati 6 euro invece di 10 è la mia offerta e poi ho preso anche un copricostume che voi infatti l'avete visto anche nel video vlog in una foto in cui lo indosso che è questo qua aspettate questo qua velato appunto fondo verde acqua con tutte queste cose geometriche in blu in arancione la particolarità ha questa manica così vedete che carino e non potete immaginare quanto è bellino addosso se avete visto il vlog vi rendete conto mi sta benissimo e poi la cosa che hanno loro a mano è che hanno applicato tutte queste perline a mano quindi una pazienza tutte sul collo vedete sono state applicate tutte sul collo e poi altre sono state applicate al di sotto vedete eccole qua tutte applicate sotto molto molto bello mi alzo ve lo faccio vedere meglio eccolo qua vedete che bello e questo era in offerta 20 euro ok ultimo acquisto diciamo passare c'è anche la partita di fare queste borse a mano adesso non so sinceramente che materiale ha però tutte in trecciale tutte fatte così c'erano tantissime carine ma a me mi è piaciuta questa da morire e questa qua a parte un colore che può entrare su tutto poi è bellissima ed è fatta proprio bene 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 ha questa tracolla qua quindi anche molto comoda da portare foderata con un tessuto bello c'è la cerniera e anche molto molto capiente anche la partita è già provata ci va di tutto e questa 23 euro e va bene ragazzi questo è il video gli invito agli orecchini spero come sempre che vi sia piaciuto come sempre se vi è piaciuta vi invito a mettere un like commentare condividere sotto al box informazioni vi lascio come al solito i miei social che sono facebook e instagram seguitemi tanto lì perché lì sono attiva tutti i giorni se non sono attiva una giornata perché c'ho da fare oppure che ne so non c'ho voglia però in genere sono sempre attiva con ricettine fotografie vabbè un po' di tutto se non sei ancora iscritto iscritto al mio canale iscriviti attivate la campanella per non perdere mai più nessun mio video e io come al solito poi alla fine di ogni video vi mando come sempre un grosso bacio a tutte e a tutti e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti